Alessio De Cerchio, centrocampista del Campobasso. Oggi non sei sceso in campo, Alessio, però insomma dalla panchina hai sicuramente tifato e poi sofferto alla fine, però hai esplosato la gioia. Certo, assolutamente. Siamo stati un gruppo fantastico, è stato un percorso magnifico dove ognuno ha dato il suo aiuto e siamo stati fondamentali tutte 26-27. Con l'aiuto del mister abbiamo portato a casa questo questo benedetto campionato. Un mister che è arrivato in corsa, se non ricordo male, dalla sesta giornata di andata. Che cosa vi ha dato? Qualcosa in più? Sì, il mister ci ha dato soprattutto tranquillità. In settimana è un martello, però poi la domenica ti lascia giocare e ti lascia esporre le tue migliori qualità nel migliore dei modi. Soprattutto è una grande persona perché ci siamo voluti bene, è stato un percorso magnifico, è stato uno di noi, anzi è stato più che un allenatore, è stato come se fosse stato un papà. Eccellenza, campionato vinto, Serie D campionato vinto, si torna in Lega Pro. Sì, si torna nel calcio che conta, nel professionismo perché questa piazza merita altri palcoscenici. Siamo stati noi i protagonisti di questo campionato, l'abbiamo meritato e adesso festeggiamo. Senti, la partita chiave probabilmente è successa a San Benedetto? Sì, secondo noi le partite chiave sono state tutte. Da questa però la partita più sentita, più importante è stata a San Benedetto, sì. Un ultimo flash sulla partita di oggi qui all'Angelini. Siete partiti molto forte, avete rischiato di passare in vantaggio per almeno due volte. Poi però il Chieti ha preso anche coraggio e vi ha messo in difficoltà. Certo, noi sapevamo la forza del Chieti che è una scuola forte, comunque costruita per stare nei piani alti della classifica, ma noi con tutta la umiltà, con tutta la concentrazione, sapevamo che questa era come una Champions League, una finale di Champions League, dovevamo portarla a casa perché secondo me l'obiettivo, i nostri motivi ecco erano molti più forti di loro e quindi c'era da dare tutto e ce l'abbiamo fatta. Alessio, sinceramente ti aspettavi lo 0-0 dell'Aquila Termoli? Sinceramente mi aspettavo che era una gara difficile per l'Aquila perché il Termoli in casa è una squadra ostica dove mette in difficoltà tutte le squadre e poi se andiamo a vedere da gennaio, da dicembre in poi, se vediamo se dobbiamo trarre una classifica da dicembre in poi, il Termoli ha fatto un campionato da secondo terzo. Quindi sì, ci aspettavamo fosse una partita difficile e il Termoli chiaramente non si è tirato indietro e ci ha aiutato a noi e quindi così.